a momic gli piace tenere in mano quei grossi libroni gli fa piacere in tutto il corpo passare il dito su quelle pagine grandi e lisce che è come se ci avessero su qualcosa che sta fra le dita e la pagina perché le dita non si avvicinano troppo alla pagina perché chi sei tu mai e cosa sei in confronto a un'enciclopedia e tutte quelle letterine piccine e fitte fitte e le colonne dritte e lunghe e le iniziali misteriose che sembrano parole d'ordine segrete di un esercito grande e forte e silenzioso e sicuro che marcia avanti e conquista senza paura tutto il mondo e sa tutto e ha sempre ragione lui e momic aveva fatto qualche mese prima il voto di leggere ogni giorno secondo l'ordine alfabetico una voce dell'enciclopedia perché lui è un ragazzo sistematico e ordinato e finora non ha perso nemmeno un giorno meno che il giorno che era arrivato il nonno ma per questo il giorno dopo aveva letto due voci e anche se non sempre lui capisce quel che c'è scritto gli piace sentirsi dentro in pancia e in cuore la forza e la calma dell'enciclopedia e la serietà e tutta quella scientifichezza che fa essere tutto chiaro e semplice e più di tutto gli piace il volume vi che è tutto dedicato a istraede e chi lo guarda dal di fuori può pensare che sia un volume come tutti gli altri perché anche quello sembra serio scientifico e sapiente ma la verità è che in questo volume verso il fondo irrompono a un tratto dal di dentro in un mucchio di colori splendidi due meravigliose colonne con le figure dei francobolli della posta di israele emessi finora e a momichi gli manca il respiro dalla commozione ogni volta che sfoglia pian piano quel volume e come di sorpresa gli saltano addosso tutta un tratto quegli splendidi colori come un mucchio di mazzi di fiori o come la coda di un pavone che ti si apre in faccia con tutti quei disegni e i colori e la sfrenatezza e c'era solo una cosa che gli ricordava un po' questa sensazione e questa era il vedere la fodera rossa come il fuoco che si nascondeva dentro la borsa nera da festa della mamma e anche un altro segreto si può svelare qui ora ed è che quei francobolli avevano dato a momich l'idea quando aveva cominciato a disegnare i francobolli di quel paese lì ultimamente per via di quello che imparava dai suoi vecchi su quel paese lui si era già preparato un album quasi completo prima doveva naturalmente far bastare quello che sapeva ed erano cose abbastanza poche e non tanto interessanti ora si può confessarlo aveva disegnato per esempio il babbo come disegnato heim weizmann il nostro presidente sul francobollo blu da trenta centesimi e la mamma l'aveva disegnata che teneva in mano una colomba della pace colomba un pugno e due dita della pace un pugno e quattro dita o forse scrivere della e così verrebbe fuori un pugno e tre dita porta fortuna e vestita di una veste bianca come nel francobollo auguri per le feste del 5712 e bella l'aveva fatta che sembrava il barone Rothschild perché anche lei era una grande e famosa benefattrice e con un grappolo d'uva da una parte proprio come nel francobollo vero di più non ci aveva nulla da disegnare allora ma ora era tutto cambiato momich aveva fatto un monte di francobolli col nonno ansel vasserman al posto del dottor hersel profeta dello stato ebraico com'era al tempo del congresso sionistico ventitreesimo perché anche il nonno hashel era un profeta pieno di visioni proprio così e il piccolo signor marcus l'aveva fatto come rambam che sarebbe maimonide con il rosario in mano e quel buffo cappello come nel francobollo marrone e marx e morizzi li aveva disegnati come quei due che portano insieme il bastone col grappolo d'uva in quell'altro francobollo marrone e ginsburg camminava davanti e dietro veniva sideman piccino e rosa e tutta gentile e teneva con una mano la sua borsa puzzolente e anche gli uscivano di bocca le tre parole di ginsburg perché lui fa sempre quello che vede fare in quel momento ma la più bella idea gli era venuta per munin era andata così che nei francobolli auguri per le feste del 5713 c'è la figura di una colomba bianca che vola nobilmente e c'è scritto la mia colomba negli anfratti della roccia e momic era stato tre giorni lì a disegnare forse venti brutte copie finché gli era venuto quello che voleva ed era la figura del signor munin che volava in aria con un mucchio d'uccellini che volavano sempre da lui perché lui gli dà i minuzzoli di pane e momic aveva fatto munin proprio come se fosse vero col cappello nero e il nasone rosso come una cartofela e solo che nella figura lui ci aveva anche delle ali bianche come quella di una colomba e in fondo al francobollo momic ci aveva fatto una stellina bianca con scritto su in piccolo felicità perché era lì che munin voleva sempre andare no? e c'erano ancora un monte di francobolli belli e interessanti in quella collezione come quello con Marilyn Monroe coi suoi capelli biondi che sono belli come la parrucca di Anna Cytrin e sul lembo inferiore aveva scritto Bella l'aveva aiutato a tradurre Marilyn Monroe Ritz Yiddish perché quella aveva promesso d'imparare a parlare lo Yiddish no? Ma la Marilyn l'aveva fatta così per il piacere di farla ma il più importante nella colazione erano i francobolli nuovi di quel paese lì con tutti i posti e le cose storiche di lì come sarebbe a dire il vecchio Cloiz che lui l'aveva disegnato simile alla nuova casa della cultura e la fiera di Neistat che si diceva che il profeta Elia niente popodimeno ci veniva travestito da povero contadino e la forca da impiccare nella città di Ponsk col terribile malandrino Bubo appeso sopra e aveva disegnato l'olimpiade ebraica e persino la varone Elia Laib della città di Anna Cytrin che di lui si diceva che non dava da mangiare nulla alla moglie a colazione dalla tanta avarizia e nel francobollo si vedeva preciso preciso come la varone faceva quel coltello un segno di Magen David sul filone di pane per essere sicuro che non ne tagliassero nemmeno una fettina mentre lui era fuori di casa e poi Momic aveva fatto un'altra serie molto bella e ben riuscita con tutti gli animali di quel paese lì in questo aveva avuto una fortuna folle perché le statuine di tutti quegli animali le aveva trovate per caso nel buffet di vetro nel salotto di Bella e così in quello stesso giorno nel pomeriggio Momic era riuscito a disegnare anche Weintraub con una testa lunga come una pannocchia di gran turco che stava a fronte agglottata dai tanti pensieri profondi e da un lato in alto Momic ci aveva fatto una bottiglia di vino e un'azima e poi aveva disegnato il suo motte il vestito da parucodutista come nel francobollo per il decennale del parucodutismo ebraico e aveva fatto ai francobolli nuovi anche la dentellatura e li aveva appiccicati nel quaderno dei francobolli e aveva guardato l'orologio e aveva visto che erano già alle sei e allora aveva acceso la radio perché c'era l'angolo del bambino e raccontavano direi mattia primo e Momic stava a sentire ma a ogni istante salzava perché si ricordava che si era scordato di fare una cosa di fare la punta a tutte le matite finché fossero fini come uno spillo e di lucidare sul giornale aperto tutte le scarpe sue e quelle del babbo e quelle della mamma finché fossero lucide e lucide e gli facessero bene al cuore a vederle e di annotare in quel quaderno di geografia segreto quello che aveva letto il giorno prima sul giornale che le due prime cavalle dell'esposizione agricola ebraica Abed de Can erano già gravide e tutti aspettavano e poi era terminato il programma radio e lui aveva preso il libro Emilio e i detective che a lui gli piaceva leggerlo anche perché è interessante e anche perché ci sono in questo libro cinque errori di stampa che a lui gli piace tutte le volte trovarli e allora può andare a vedere se gli errori sono già annotati nel suo libro degli sbagli di stampa che lui trova nei libri e nei giornali e ce ne sono già quasi 170 anche se sa che quegli errori di stampa di Emilio e detective sono già annotati lì da tanto tempo ed erano già le 6 e 33 e Momic era andato ora a sdraiarsi sul sofà in salotto sotto il quadro a colori che loro c'hanno in casa che il babbo e la mamma l'avevano avuto in regalo da Itka e Shimec ed è quel quadro a olio grande grande col bosco e la neve e il ruscello e il ponte così certo era Neistat o così era Dinov dove i suoi vecchi amici stavano di casa una volta e mettendosi disteso lì in un certo modo speciale un po' storto sul sofà si può vedere che tra i rami dell'albero nell'angolo di sopra c'è la faccia o quasi la faccia di un ragazzo che solo Momic lo sa che c'è e forse il suo gemello si amese ma non è sicuro e Momic guarda come si deve ma la verità è che oggi l'ha fatto senza metterci troppa intenzione perché gli fa molto male la testa già da un po' di giorni e gli occhi anche ma a lui è proibito essere stanco perché la guerra principale d'oggi ancora non è nemmeno cominciata è un po' di giorni